Ciao ragazze, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui con voi per aprire i miei regali di Natale di Yves Rocher Sono felicissima perché è il mio primo Natale da rest Quindi sono super curiosa di vedere che cosa hanno regalato alle rest Yves Rocher Se sei curioso di spacchettare con me, continua a guardare Ma aspetta, vado a mettere il mio super cappello di Natale Meglio le corna Poi questo è il mio auguro Belle le corna Oppure il cappello da babba Natale Le corna indubbiamente, ma questo è caldo quindi lasciamo questo Ok, ho voluto aspettare oggi che è Natale Uno per farvi gli auguri di Natale Buon Natale ragazze Sono felicissima di essere qui con voi appunto a Natale per farci gli auguri Non potevo non aprirli con voi questi regali di Natale Uno perché ho aperto tutti i pacchi con voi praticamente importanti di Yves Rocher E anche perché è un buon modo per farci gli auguri di Natale Quest'anno è passato velocemente Con l'augurio che il 2022 sia un anno ricco di soddisfazioni per tutti e di tante cose belle, di felicità e serenità Sono veramente felice di avervi intrapreso questo percorso con voi su YouTube Di aver fatto appunto tutti questi video fino ad oggi Veramente sono passati anni così volati Veramente mi ha fatto super piacere Mi fa veramente piacere ogni volta leggere i vostri commenti Sentirvi comunque anche partecipi anche su Instagram Aver conosciuto tantissime persone fantastiche Grazie a YouTube, grazie a Instagram, grazie al mio lavoro E sono veramente felice Quindi non potevo non aprire con voi anche questi regali Appunto due pacchettini Vendo i pacchettini di cui uno è più grande e uno è più piccino Vediamo insieme che cosa c'è Vediamo insieme che cosa c'è Allora ho aspettato Natale per aprire gli Ovviamente non mi sono arrivati oggi Mi sono arrivati un po' di tempo fa Perché volevo aspettare che tutte le reste ricevesse le regali Così da non spoilerare niente a nessuno E lo vediamo insieme Tucano È una borsa? Forse sì Si presenta così Ha questo fogliettino all'interno Con scritto rispetto dell'ambiente e dei diritti delle donne Ecco il nostro regalo per te Bello Mi piace un sacco già il pensiero che si ha sempre per le donne E per l'impatto ricco di valore Perché l'Africa Il 90% dei rifiuti presenti nel continente Arrivano dai paesi occidentali In primis l'Europa e gli Stati Uniti Questa ragione di intervenire in Africa è importante Inoltre grazie a centri di presenti in Etiopo Uganda e Ghana Si stanno recuperando C'è un'interno di tonalità di plastico Ogni mese avviano Così percorsi insolvissibili E efficaci e efficienti Adoro Sempre il pensiero comunque Di aiutare anche chi Ha bisogno di aiuto Con associazioni insomma E aiuti per loro Ma vediamo il regalo Questo imballo è realizzato interamente Con materiali riciclati e riciclabili Allora Dalla confezione Sembra proprio ci sia una borsa Ma appiamola Perché questa è una contenuta in Qualcosa Sì è contenuta in Un morbido In questa pochette Vediamo Vediamo Ma non è contenuta in una pochette È la pochette stessa Bella Bella È un mondo di Nadia Continua a girare Tira fuori Ok Morbidosa Forse sono io che ne perdo Perché ho messo L'olio iridescente Ragazzi Sempre qui con me Scusate Product placement Olio iridescente Che è in offerta Fino il 27 di dicembre 8,95 Ragazzi Stupendo Io ce l'ho anche addosso Cioè lo metto comunque anche Nei periodi appunto Di Natale Prenatale Festivi Perché mi fa troppo festivo Ok Borsa Tucano For e-gross Che c'è anche qui di fianco La scritta Tucano Eco-friendly E anche Qua scritto E-cycle Bella 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 Mi piace Pratica Per mettere i libri I quaderni Per andare a studiare Ma non allo stare più Comunque per mettere i libri I quaderni Mi piace moltissimo Bella Solida E capiente Bene Questa era il pacchettino Più piccino Adesso abbiamo Il pacchettino più grande Cioè Questo pacchettino qua Vediamo un po' Che cosa c'è all'interno Wow Non me lo faccio vedere Ve lo faccio vedere Siamo qui a porta Tucano For e-gross Anche qui Stessa cartolina Credo sia sempre la stessa Sì C'è anche il messaggio di Mirena Per me ragazzi Guardate Leggiamo Un pensiero Per ringraziarti Del tuo impegno E per aver scelto Di essere al nostro fianco Nel rappresentare La nostra meravigliosa marca Un abbraccio Forte forte Milena Un abbraccio a voi Un abbraccio Bellissimo Bello 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 Bene Allora Questa invece È l'altro regalo Borsa Penso sia Borsa da viaggio Così 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 Sanno Anche perché Sanno più grande Penso sia proprio Borsa da gatto Vediamo Apriamolo Insieme Sempre La tip C'è comunque Questa la apro No poi non la richiudo più Chi ci riesce Non credo proprio Che la chiuderò mai più Bella Questa è un bel borsone Da viaggio Un bel borsone Sì Proprio da viaggio Perché c'è anche La maniglia Qui Quindi comodo Da prendere Potre O per andare a fare sport È molto bella Sì Questa è perfetta Anche per fare sport Per andare In piscina Ci sta L'accappatoio Dentro Sembra molto catinta Ha un sacco di tasche Ah vedete Qua la tasca E la parte Dove Era fuori Si gira tutto All'interno Alla tasca Non mi avete capito Si gira Il tutto All'interno E L'interno Della tasca È quello che Vendevamo Ex esterno Insomma Poi Abbiamo Queste due Fantastiche Cerniere Belle Belle Morbide Si apre Veramente Tantissimo È enorme Ci sto anche io Forse Bello 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 Questo blu Mi piace molto C'è una doppia tasca Anche dietro È enorme Cioè È un borsone Proprio enorme Sia per i beauty party Che per Viaggi È perfetto Bella 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 Grazie Grazie Crochet Regalo di Natale Super Mi piace veramente tanto E questa borsa Questa è lavoro sicuro Tutti i giorni Tutti i giorni In giro Qua mia borsa Non ci vedete in piedi Ragazzi Questa è la borsa Bene ragazze Grazie mille Per aver seguito Questo video Grazie per supportarmi Qui su youtube E grazie per Mettere mi piace A questo video Che stai mettendo In questo momento Divertitevi Mangiate Ridete tantissimo E dite almeno Una cosa Scrivetela magari qua sotto Una cosa Di cui siete davvero Grati Una cosa Proprio che Dici guarda Io sono grata Di questa cosa qui Se ancora non mi segui su instagram Mi trovi su Cristina.Varone E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao E buon Natale Ciao